Ero a un passo così da prenderlo così Questo non è un film Non è un documentario Non è la ripresa di uno spettacolo teatrale Non è un backstage Non è un filmino delle vacanze Non è un reality show Non è un cartone Non è un filmino animato Non è neanche un video arte Sono solo gli scarti di una generazione Che per fare del cinema bisogna unicamente di Una piccola telecamera Un computer E delle buone idee Ripeto però Questi sono solo gli scarti Sono d'accordo ma ti dico che Che cosa? In Inghilterra non hanno il bidet Come è possibile senza biede Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Stop partisco Grazie a tutti.